buongiorno a tutti ragazzi anche oggi vi do belle bellissime notizie ok segnate le tacche perché siamo al countdown contro la rovescia ci sono già delle date con le quali ci dicono entro quando finirà il pedigree ricordatevi che tutte le leggi se andate a vedere in gazzetta sono collegate alla fine dello stato di emergenza quindi stanno già indicando le date della fine dello stato di emergenza come conclusive quindi ragazzi distribuite il video date speranza alle persone iscrivetevi al canale telegram che vedete qua in sotto impressione dove vi metto le notizie che qua non si possono mettere perché la piattaforma censura siamo quasi 31.000 iscritti siamo tanti e voi potete interagire quindi è interessante anche per confrontare tutte le esperienze ma andiamo al dunque andiamo al dunque perché voi siete curiosissimi allora cosa dice il libro quotidiano punto it cosa dice pedigree rivoluzionato il certificato tantana palazzo clamorosa retromarcia del governo ci siamo ragazzi ci siamo e di del 25 la curva dei cosi è arrivata al plot dei prossimi giorni dovrebbe cominciare a scendere certe parole le ometto perché qua non si sa mai quindi scusatemi basta quindi a zone bianche gialle rosse del resto il risultato della campagna non si può non tenere in considerazione siamo all'87 per cento dicono loro della della platea totalmente cacchinata e a 30 milioni di persone col busto sul busto col busto col busto col busto su 39 che potrebbero farlo ha detto il nostro amico figliuolo il grande figliuolo di allora ancora si punta anche a rivedere la durata del green pedigree per chi ha completato la terza dove cosa significa che se lo allargono all'infinito vuol dire che non ci sarà la quarta quindi siamo contenti per loro poverini allora andiamo a vedere ancora cosa ci dicono silieri il nostro amico silieri con quella faccia da persona onesta candida si vede una persona io gli darei proprio le chiavi dell'appartamento in mano ecco perché lo stato di emergenza non sarà prorogato è sempre il 25 gennaio il giornale punto it nessuna proroga dello stato di emergenza dopo la data del 31 marzo va bene quindi non si arriva al 31 marzo ok non si arriva si arriva massimo al 31 marzo quindi vi farò vedere cosa sta succedendo in europa secondo me potrebbe succedere anche prima lo vedremo quindi siamo agli sgoccioli resistete dopo due anni di buia restrizioni dunque sembra intravedersi la luce anche in italia soltanto pochi giorni fa commentando la situazione del nostro paese silieri aveva auspicato un alleggerimento delle misure ok ormai necessario una revisione da effettuare nelle prossime settimane data la diminuzione dei casi va bene quindi ci siamo ok abbiamo le date la signora l'altro giorno mi vale date e ci siamo quindi ragazzi non è assolutamente fuffa andatevi poi a leggere gli articoli vi metterò sul telegram andiamo avanti andiamo avanti regioni a governo basta caos stop a colori e sorveglianza solo e sorveglianza solo per i sintomatici quindi se siete addirittura positivi non ci sono tanti problemi sembrerebbe ancora però ragazzi ragioniamo perché vediamo cosa succede nel mondo regno unito da oggi stop al pedigreen e mascherine l'hanno tolto andiamo ancora a vedere israele cancello il pedigreen ok poi andiamo ancora a vedere dove siamo qua dalla spagna senza pedigreen i contagi tra i più bassi in europa e le cacchinazioni sopra l'ottanta per cento quindi l'hanno tolto mi sembra già da tempo è difficile trovare queste notizie perché chiaramente tendono a censuarle e abbiamo anche l'irlanda stop al pedigreen ok vediamo se c'era qualcos'altro da dire nei video che nei articoli che vi ho messo niente andiamo andiamo avanti ancora scozia anche scozia lo depotenziano in realtà riaprono le discoteche eccetera eccetera ragazze anche in francia se vi dicono che lo mettono ma queste restrizioni quindi non non prendetele come un non prendete il pedigreen francese come con l'italiano comunque scozia green pass verrà richiesto per grandi eventi solo per i grandi eventi abolita la distanza minima di un metro in bar e ristorante quindi ragazzi sta finendo da per tutto conto alla rovescia in svizzera quindi anche in svizzera sta sta finendo l'obbligo di presentare il pedigreen potrebbe presto essere soppresso in svizzera secondo quanto ha indicato il ministro della sanità va bene adesso ci credete perché vi vedo sempre dubbiosi dubbiosi volete le date volete le tutto io vi porto anche il caffè però cercate di leggere gli articoli di giornale e sveglia allora poi cosa abbiamo da dire vediamo un attimino romania passo indietro non vi sto mettendo le date però più o meno per capire come la situazione questa addirittura succedeva a dicembre a fine dicembre quindi non sono andate lontane romania passo indietro su pedigreen per lavorare dopo le proteste mi pare che poi altri paesi in bulgaria adesso ricordo non sono riusciti a trovare gli articoli perché lì tolgono quando lì non si trovano più dopo qualche settimana chiaramente tendono sempre a censurare e questo questo è la situazione nel nei nei paesi bassi nell'olanda e l'olanda esce parzialmente quindi anche l'olanda si sta muovendo in questo senso la svezia smaschera la bugia del lockdown il paese baltico che non ha mai imposto il coprifuoco ha registrato lo stesso andamento della pandemia eccetera eccetera quindi ragazzi anche in svezia stanno stanno togliendo tutto ci sono altri paesi mi sembra del sudafrica altri paesi adesso non me li ricordo tutti perché non è facile vi dico trovare le notizie perché tendono a levarle però ci sono tanti altri paesi e nei paesi dove c'è sono sicuramente non rigidi come in italia il paese dove sono stati più severi è israele dove stanno togliendo tutto per il resto ragazzi cosa vi posso dire niente iniziamo a portare questa vittoria a casa cerchiamo di stare sereni e tranquilli segnate i giorni stiamo un attimo tranquilli perché la questione sta avvolgendo a nostro favore sempre in campana però perché questi sono dei piccoli diavoletti dei diavoletti poi grazie a dio vediamo un attimino volevo far vedere qualcosa questo è il mio canale telegram ci ha aiutato un nostro amico vedete perché una volta che lo dice lui il pedigree matteo matteo ci dice il nostro amico matteo strumento di odio sociale avete visto gli hanno tolto oppure la cappella si sta comportando bene bravo ragazzo noi ti vogliamo bene allora sei un po stranino però comunque al di là del fatto abbiamo detto tutti iscrivetevi al canale ragazzi telegram siamo tantissimi volevo riprendere un attimo il discorso per chi vuole vedere i miei video come al solito andate qui edoardo dini cliccate la sezione video e guardatevi soprattutto l'ultimo perché sta succedendo qualche cosa di clamoroso nella zona di taiwan ok legato all'ucraina quindi chi vi dice chi vi dice scusate faccio una parentesi che in ucraina non succede niente è una stupidaggine perché adesso sto andando ad approfondire il discorso non è come dicono i giornali che pompano ma c'è una situazione ve lo ricordate giulietto chiesa giulietto chiesa la terza guerra mondiale partirà dall'ucraina andatevi a vedere un po le conferenze di giulietto chiesa io le metterò anche su telegram oggi in modo tale che vi rendete conto che la questione non è inventata oggi è una questione che esiste da tempo ritorniamo al nostro game over così ritorniamo alle belle notizie non a quelle brutte sperando che non succeda niente e di brutto con questi paesi che si stanno fronteggiando d'altronde la cina ragazzi il filo di state filo cinese è crollato hanno fatto un sacco di leggi contro queste aziende che portavano i microchip le terre rare i semiconditori in europa e quindi taiwan è un pochino adesso sotto l'occhio del ciclone va bene quindi e quindi chiaramente daranno proveranno a fare qualcos'altro immagino che non si arrendano così comunque noi godiamoci questa vittoria io spero che il video vi abbia confortato vi invito a iscrivervi anche al canale youtube controllato l'iscrizione cliccate sulla campanella così che arrivano le notifiche e vi auguro una bella giornata ci vediamo al prossimo video ciao 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 dottor cazzo ciao